E' stato firmato all'Aquila il protocollo d'intesa che sancisce la nascita dell'Associazione delle Professioni della Provincia dell'Aquila. Al nuovo organismo hanno aderito l'Ordine Provinciale degli Ingegneri, l'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila, il Collegio dei Geometri e il Collegio dei Periti Industriali, per un totale di 4.500 professionisti. Un'associazione che ha molto da dire a questo territorio, ha spiegato Pierluigi Diamicis, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Una delle prime iniziative sarà il miglioramento del nostro territorio e divisione della città. I principi che ci accomunano sono molti, dall'autoregolamentazione e il coordinamento delle attività per fluidificare i rapporti, alla formazione dei giovani e all'accesso della professione. Cercheremo di aumentare la qualità della formazione, che vediamo come opportunità di crescita. Oggi, a proseguito di Amicis, si concretizza, con un atto pratico, una sinergia e degli sforzi che si sono fatti prima del 2009 e ancora di più dopo il sisma. Abbiamo molto da lavorare perché questa associazione non nasce per parlare solo di terremoto. Qualcosa, in tal senso, verrà affrontato, ma vogliamo andare oltre questa barriera e uscire da questo ambito ristretto. Vogliamo tornare ad essere un territorio nelle condizioni di ordinarietà e fare in modo che si parli della provincia dell'Aquila per la crescita e le nuove occasioni di sviluppo culturale e di vivacità in cui gli aspetti sociali siano messi in primo piano. L'Associazione delle Professioni Tecniche hanno sottolineato nei loro interventi il Presidente degli Architetti, Edoardo Compagnone, il Presidente del Collegio dei Geometri, Giampiero Sansone, e il Presidente dei Periti Industriali, Maurizio Papale, si occuperà in particolare della promozione di iniziative sui grandi temi della riqualificazione urbana e del territorio, della ristrutturazione post-sisma, della formazione dei giovani, di politica sociale e promozione delle conoscenze tecniche in ambito globale riguardanti ambiente, paesaggio, costruzioni, risorse, beni naturali, rischi e sicurezza. Ci poniamo al servizio delle istituzioni e della cittadinanza per rendere una qualità alta della professionalità che vengono messe in campo. Obiettivo principale è l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, un principio fondamentale che deve garantire la comunità.